Entrare nella chiesa di San Bernardino a Chiavari e contare gli uomini sulle dita di una mano dà già la dimensione della tragedia che il popolo ucraino sta continuando a vivere dal 24 febbraio. Sul nostro territorio al momento ci sono 291 profughi registrati, di cui la metà bambini. Tetiana viene da Kramatorsk ed è in Italia con il figlio piccolo. Ad aprile ha raggiunto una sorella che si trovava già qui. Il marito e i genitori sono rimasti in Ucraina. Le sirene suonano anche otto volte al giorno. Da quando c'è stato il bombardamento del centro commerciale, la mia famiglia si è trasferita in una casetta che abbiamo in campagna. Ora in città è troppo pericoloso, anche se è lontana dal fronte. Le autorità ora chiedono di rispettare gli allarmi perché ci sono stati morti e feriti in quel bombardamento. Qui in Italia siamo stati accolti benissimo, ma non ci sentiamo soli perché spesso sentiamo parlare la nostra lingua, visto che ora qui ci sono molti ucraini. Ci ritroviamo spesso, però il nostro desiderio è sempre quello di tornare a casa. Dopo sei mesi di guerra, i turni per la distribuzione di abbigliamento, alimentari e giocattoli si è sistematizzati. Ci siamo organizzati uno giorno di settimana, mercoledì, che facciamo distribuzione, che vengono tutte le famiglie e proprio le mamme con i bambini e lì da questa parte distribuiamo il cibo e qui si divertono un po' con vestiti per bambini, giocattoli, tutta la roba e così loro dividono e se lo prendono. Le mamme e i bambini si incontrano quasi ogni giorno, anche a piccoli gruppi, e ci sono diverse iniziative per loro, ma il cuore è sempre là. Non ci sentiamo soli, però non lo so, ma non sentiamo tanto che parlano tanto, perché succedono cose molto dolorose, proprio per questi, e lì a Donetsk cosa è successo con i ragazzi che hanno ucciso torture, proprio che fanno le torture, e non lo so se si parla qua, e questo un po' dispiace.